Come volevo ricerla? Non lo sai E beh, perchè stiamo qua? Non mi potevi ricerla a casa A casa c'è stata mamma e papà E quindi? E quindi prima c'era nato dolore, era parlato a te Era guardando all'occhio Frangeli di questo canto stai portando troppo a nanzo Qualcuno mi ha detto che c'era dei soldi nostri E' senza domandare niente in cambio Prima cosa che le deno è una mamma E seconda cosa I soldi ce l'ha giù solo prestata Il suo tempo fa arrivare un carico e mette il coso a posto Hai capito? Ho indagato a mia moglie, ma lei ha prestato i soldi che gli interessa Ancora non è moglie Ti preoccupa Ma tu mi sei la diretta Ma visto che stai sentendo a papà C'è stata pensata Aspetta Aspetta c'è stata la terza questione La più importante A nina Non leggerà dei soldi nostri A nina leggerà dei soldi miei A nina leggerà dei soldi A nina leggerà dei soldi A nina leggerà dei soldi A nina leggerà dei soldi